Organizzato dalla Confapi e ospitato nei suoi locali, si è svolto a Ristano il convegno dal titolo Il futuro delle aree produttive tra zess e retroportualità. Importante l'argomento così come i relatori che si sono susseguiti davanti a una platea forte interessata a saperne di più in merito a un progetto di grande rilevanza per il territorio. Ristano ha spazi, ha spazi industriali, ha terreni e comunque tutta una serie di infrastrutture come anche quelle viarie che sono particolarmente apprezzate. Soprattutto Ristano sta dimostrando di avere una capacità di dare delle risposte e questo è molto importante, lo vogliono tutti e vogliono in qualche modo tutti avere risposte e risposte in tempi rapidi. I numeri ci stanno dando ragione, stiamo investendo molto, ho citato che solamente in questo momento ci sono a terra più o meno quasi 10 milioni di interventi sul porto di Ristano ed è un porto che aveva bisogno di una visione e soprattutto di essere inserito all'interno di un sistema. Quello che può dare la zona economica speciale, oltre ai crediti di imposta che conosciamo, quindi una riduzione, un credito di imposta del 25, 35, 45% a seconda delle dimensioni dell'impresa per investimenti fino a 100 milioni di euro, la zona economica speciale può dare sicuramente offrire una riduzione della burocrazia, può offrire una riduzione della burocrazia attraverso la conferenza di servizi e rilasciare l'autorizzazione unica a parte del commissario. Abbiamo voluto fortemente questo convegno per presentare agli imprenditori nuove possibilità di poter investire sulle proprie attività, sulle attività che possono essere delle nuove attività, dei nuovi insediati.